Giuliana, fai entrare chi deve entrare e chiudete le porte. Benissimo, possiamo cominciare subito. Benissimo, è prevista adesso l'audizione del Presidente dell'Assemblea parlamentare Tinikos, che accolgo molto molto volentieri, che lo ringrazio di questa disponibilità. Come sapete siamo nella fase finale della Presidenza italiana del Consiglio d'Europa. Il Presidente Cox ha partecipato ieri al seminario sui temi della cultura e l'iniziativa culturale del Consiglio d'Europa, in più ha avuto ovviamente una serie di colloqui bilaterali nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea. Siamo molto lieti di accoglierlo, soprattutto in una fase nella quale il Consiglio d'Europa è un protagonista, come altre istituzioni, dell'agenda politica del momento. Veniamo da una decisione del Consiglio d'Europa molto delicata e complessa, che è stata la espulsione della Russia dall'Assemblea parlamentare e dal Consiglio, in conseguenza delle vicende ucraine, è una questione che naturalmente ha sollecitato una discussione nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulle prospettive non solo del conflitto russo-ucraino, ma anche sulle prospettive dello stesso Consiglio d'Europa. Lo stesso Presidente Cox, nell'ultima sessione di qualche settimana fa, nel corso di un suo intervento, ha sollecitato a aprire una riflessione su quale debba essere il nuovo posizionamento, le nuove finalità del Consiglio d'Europa alla luce del mutamento dello scenario internazionale. Io qui mi fermo perché abbiamo un'ora esatta di tempo. Poi il Presidente Cox deve partire per Fiumicino, dove lo attende l'aereo, e quindi io do immediatamente la parola al Presidente, ancora ringraziandole, ringraziando la Segretaria generale dell'Assemblea parlamentare, la despina che accompagna il Presidente, ma soprattutto è una grandissima amica della Delegazione italiana, quindi di questo la ringraziamo. Prego Presidente, parlerai in inglese, quindi c'è la traduzione simultanea. Poiché il mio italiano non è sufficientemente buono, è per questo. Buongiorno, buonasera, arrivederci. Prego, ma per il resto no, sono dei Paesi Bassi, quindi anche l'inglese per me è una lingua straniera, ma sono davvero lieto di essere qui con il mio caro amico, il Presidente della Commissione esteri, vedo anche il Capo della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare, l'On. Marta Grande, che è lì giù, la vedo. Forse di recente ho visto vari di voi, adesso sono vent'anni che sono parlamentare e adesso a gennaio sono diventato Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e come ha detto il Presidente Fassino, viviamo in un momento davvero impegnativo, non solo all'interno del Consiglio d'Europa. Noi, voi rappresentanti del vostro Parlamento, membri della Commissione esteri, sapete bene che questo vale per tutta l'Europa, per tutto il mondo. Ho già detto che adesso dobbiamo chiudere tutti gli asili nella politica internazionale, adesso dobbiamo essere seri e adulti, come avrete notato voi stessi. Adesso stiamo parlando apertamente della possibilità di una terza guerra mondiale, della possibilità di un conflitto armato nucleare. Non ne stiamo solo parlando, stiamo osservando una vera e propria invasione militare da parte del paese più grande del mondo nei confronti contro l'Ucraina, uno dei membri del Consiglio d'Europa. Se non adesso, quando? E allora dobbiamo chiedere ai politici di iniziare ad assicurarsi che tutto quello che facciamo deve essere quello che i nostri elettori ci chiedono. Evitare la guerra, salvaguardare la pace e chiarire che in Europa dobbiamo collaborare, perché se non lo facciamo, invece dovremo farlo, perché dopo 200, vedendo gli ultimi 200 anni di storia europea, vediamo che questa è la realtà. Ho visto con piacere il vostro Presidente della Repubblica insieme al vostro Ministro degli Esteri nella nostra sessione plenaria due settimane fa a Strasburgo. Entrambi hanno chiesto queste domande fondamentali. Adesso dobbiamo rispondere. Come fare per prevenire la guerra? Come perseguire la pace? Come consentire uno sviluppo dell'Europa a beneficio di tutti i nostri cittadini, perché se non lo facciamo è finita. Potrebbe essere davvero la fine. È davvero triste riconoscerlo. La mia nipotina di 11 anni mi ha chiesto, nonno, ma ci sarà una guerra? Me l'ha chiesto qualche settimana fa. Un anno fa avrei detto no, non siamo sciocchi, assolutamente no. Noi saremo attenti che non accada. Ma adesso ho dovuto dire che c'è una guerra in corso, ma noi speriamo di contenerla. Adesso mi rivolgo a voi, a tutti i politici dell'Europa, per iniziare immediatamente a rivedere non quello che dovremo fare nel futuro fra dieci anni. Ma quello che dobbiamo fare ora è di fare quello per cui siamo stati eletti. Nella sostanza è questo. Quindi dobbiamo rivedere, ripensare alla funzione delle istituzioni internazionali, come il Consiglio d'Europa. Siamo stati fondati nel 1949. L'obiettivo è chiaro. Prevenire la guerra, perseguire la pace, farlo sulla base dello Stato di diritto, dei diritti umani e della democrazia, nell'interesse socio-economico di tutti i cittadini dell'Europa, i nostri cittadini. Questo è un messaggio chiaro. Più o meno lo stesso messaggio è quello dell'OSCE, dell'Unione Europea, della Nato, delle Nazioni Unite. Ma nonostante tutte queste organizzazioni internazionali, c'è una guerra vera e propria in corso in Europa. Sappiamo quando è iniziata, ma non sappiamo come e quando finirà e a quale prezzo. Dovremmo guardare la televisione, basta guardare la televisione per vedere le atrocità commesse in Ucraina e per capire che siamo noi, noi siamo i primi responsabili. Non possiamo dare la colpa ai nostri vicini, ai nostri genitori, ai nostri figli. Noi, politici eletti, dobbiamo garantire che sia trovata una soluzione e che questo possa finire. Ecco perché sono stato così lieto di vedere il Presidente Mattarella e il Ministro Di Maio, che erano favorevoli all'idea di riunire tutti i capi di Stato e di Governo dei 46 Stati rimanenti del Consiglio d'Europa, dopo l'espulsione della Russia, riunirli non tra dieci anni, ma nel giro al massimo di dodici mesi, da qualche parte in Europa, a Roma, a Reykjavik, a Parigi. Dobbiamo riunirli e dire, bene, quale sarà il futuro della cooperazione in Europa? Come potremo modernizzare la nostra cooperazione internazionale? Ieri mi ha fatto molto piacere il fatto che il Presidente Macron, credo a Berlino, alla conferenza sul futuro dell'Europa, abbia detto più o meno la stessa cosa. Abbiamo bisogno di nuove architetture, di nuove costruzioni, perché non possiamo allargare l'UE in un giorno o in una settimana, perché ci vorranno anni per l'allargamento dell'Europa. Ma se vogliamo un luogo per salvaguardare tutti gli Stati non membri dell'UE in Europa, e ce n'è circa una ventina, dobbiamo fare questo. Il Presidente Macron ha pensato alla creazione di una nuova organizzazione che raduni tutti gli Stati dell'Europa per dare protezione sulla base di valori condivisi. Ho pensato, quando ho sentito, che questa idea del Presidente Macron fosse ottima, e ho sentito anche alcuni politici italiani che più o meno avevano la stessa idea nei giorni scorsi. La buona notizia è che c'è già una base, il Consiglio d'Europa, che si basa sul Trattato di Londra del 49, che dice esattamente, che recita. Esattamente parla di un contesto nel quale tutti gli Stati europei si riuniscono, si basiano su valori condivisi, con la possibilità di fare più di quel che stiamo facendo adesso. Possiamo allargarci, non abbiamo bisogno di un nuovo trattato. Questa potrebbe essere una possibilità, almeno una possibilità ad interim per l'intera Europa, perché l'appartenere all'UE per molti Stati può essere una questione a lungo termine, ma i problemi sono adesso e devono essere risolti. Non possiamo pensare che l'Ucraina possa essere risolta come questione tra vent'anni. Adesso dobbiamo ripensare alle funzioni del Consiglio d'Europa con la sua dimensione parlamentare, non solo intergovernativa, ma una dimensione parlamentare. Piero è uno dei presidenti delle nostre commissioni, incarichi nella nostra Assemblea, sa che noi abbiamo veri poteri e adesso, almeno per i prossimi anni, dobbiamo avere un'organizzazione che sia adatta a tutti i Paesi europei, che possa dare più protezione, più sicurezza e garantire un maggiore futuro. E questa sarebbe una idea eccellente, a mio avviso. Quindi ringrazio ancora una volta il vostro Presidente, perché quando si è rivolta alla nostra Assemblea, sapendo che aveva 81 anni, io gli ho chiesto e gli ho detto che ha dimostrato di essere saggio, di essere un esempio vivente di come con l'età si diventi saggi, il che non accade sempre. Lui ci ha infuso parole di grande saggezza, per cui l'Europa può e deve sopravvivere. E lui sostiene l'idea che ci sia una riunione, un vertice di tutti i capi di Stato e di governo dei 46 Stati europei del Consiglio d'Europa per discutere come faremo nel futuro per essere all'altezza del nostro mandato, quindi prevenire la guerra, perseguire la pace sulla base di valori condivisi e fare tutto questo a vantaggio dei nostri cittadini. In breve questo è quello che posso dire in generale sulla più grande organizzazione basata su un trattato che c'è in Europa. Ma sono lieto di ascoltare voi e sicuramente preferisco rispondere alle vostre domande piuttosto che continuare a parlare da solo. Grazie per aver invitato me e Despina, la nostra segretaria generale. Il suo cognome Ciazzi Vasilio è sicuramente lungo ma non difficile. Grazie. Bene, grazie Presidente. Allora cominciamo. Ha chiesto la parola all'onorevole Boldrini. Sì, grazie Presidente. Ringrazio il Presidente Cox per averci inquadrato l'operato del Consiglio d'Europa che noi conosciamo bene. Siamo dei grandi estimatori ed estimatrici dell'attività del Consiglio d'Europa. Un'istituzione che nasce appunto molti molti anni fa in qualche modo per stabilizzare la nostra area geografica, per affermare il valore della pace. Preoccupa molto che da 47 membri siamo arrivati a 46 membri, perché ce n'è stato uno che non ha rispettato quei valori di pace e i valori di non aggressione. Ora, il punto è questo, Presidente Cox. Come si fa a raggiungere la pace che tutti noi vogliamo? Io penso che potremmo essere tutti d'accordo in quest'Aula nel dire che più si mandano armi, più la pace si allontana. Noi abbiamo visto grossissimi investimenti, specialmente dal nostro alleato atlantico, che ha prospettato un investimento di 33 miliardi di dollari, di cui 20 miliardi in armi. Allora, un investimento così vuol dire che tu hai intenzione di alimentare uno stato di tensione, vuol dire che non pensi che la pace sia raggiungibile nel giro di pochi mesi, perché non fai un investimento così massiccio se pensi che si tratta solo di poco e poi si arriva sinceramente a una fase, a una ricostruzione, perché quei denari allora dirai e li metto nella ricostruzione, non 20 miliardi di dollari in armi. Quindi io sono molto preoccupata, essendo una europeista convinta, che il ruolo di noi Paesi europei in tutta questa situazione sia del tutto secondario e mi permetta di dire quasi irrilevante. Noi stiamo seguendo una linea politica che non necessariamente va a favore dei nostri interessi, perché noi questa guerra ce l'abbiamo dietro casa. Questa guerra ci impone sacrifici in termini energetici, economici, di assistenza alle persone che sono in fuga, tutte conseguenze che oggi l'Unione europea cerca di affrontare insieme, ma già si stanno vedendo i distinguo, perché non tutti gli Stati membri sono disposti a fare sacrifici. Per quanto ci riguarda dovremmo diminuire del 10% il fabbisogno energetico. C'è un dibattito politico su questo. Il nostro sistema produttivo è sicuramente ha enormi problemi ad accettare questo, ma stiamo diversificando gli approvvigionamenti di energia. Allora, io mi chiedo, è possibile che non si riesca a mettere in piedi un'iniziativa di pace reale, dove i grandi leader mondiali tutti mettano in gioco il loro peso politico per il raggiungimento della pace. Finora ci sono stati incontri bilaterali che non hanno dato risultati. La Turchia ci ha provato. Ma perché dobbiamo dare a Erdogan questo ruolo quando Erdogan comunque, diciamo, per carità, diciamo che non è proprio il massimo della figura che ha tenuti alti valori e principi democratici e diritti umani? D'accordo? Ecco, allora io penso che noi dovremmo fare in modo che ci sia un'iniziativa politica forte. Lo ha detto Macron, che secondo me ha fatto i giusti distinguo. Non si è appiattito su una politica che non è nell'interesse dell'Europa. Adesso anche in Italia stanno emergendo delle voci un po' più lucide e critiche, perché dopo l'invasione e l'attacco diciamo che in molti hanno perso lucidità. Però questo vuol dire che il Consiglio d'Europa, ad esempio, può essere una piattaforma importante per il rilancio di un negoziato di pace, coinvolgendo anche grandi attori che non sono nel Consiglio d'Europa. Io mi riferisco a attori che non hanno messo le sanzioni. La Cina, l'India, la Turchia che è membro non ha messo le sanzioni, Israele non ha messo le sanzioni, ma anche i partner più lontani, il Brasile, l'Argentina. Allora, noi dovremmo concentrarci in un'azione politica tale per cui, invece di concentrarci sulle armi, allarghiamo il raggio d'azione delle sanzioni. Al tempo stesso avviamo un serio dialogo sui termini per mettere fine a questa guerra, perché su questo ognuno passa la palla a qualcun altro e a livello bilaterale difficilmente ci sarà la soluzione. Quindi volevo capire che ne pensa lei di questo investimento così massiccio fatto dai partner statunitensi sulle armi e come prevederebbe lei l'ipotesi di fare un grande summit di pace, una grande conferenza di pace, anche sponsorizzata dal Consiglio d'Europa. Grazie, Presidente. Ribolla, prego. Sì, grazie, Presidente. Ricambio anch'io i saluti e i ringraziamenti per la visita del Presidente Cox e dell'amica Despina qui a Roma. Tra l'altro visita che ricambieremo questa domenica in Grecia da Despina per la Commissione Politica del Consiglio d'Europa. Stamattina e ieri si è tenuta la Commissione Cultura qui a Roma. È stata ricca di spunti e di argomenti per i nostri lavori. Io credo che gli obiettivi che il Presidente Cox ha delineato nel suo intervento siano obiettivi condivisibili e auspicabili. La cooperazione internazionale e il ruolo del Consiglio d'Europa sicuramente deve essere rafforzato nei suoi principi base. Quindi ritengo assolutamente condivisibile l'idea di riunire i 46 capi di Stato. 46 perché fino a poco tempo fa erano 47. Con dolore abbiamo dovuto escludere la Russia dal nostro consesso. Sappiamo anche quanto il nostro Paese, l'Italia, abbia contribuito con la delegazione italiana negli scorsi anni a riportare la Russia all'interno del Consiglio d'Europa dopo anni di difficoltà. ma purtroppo siamo arrivati ad un punto dove il Consiglio d'Europa ha dovuto escludere la Russia. Speriamo che però allo stesso tempo il Consiglio d'Europa possa continuare a dialogare, a esprimere un dialogo con i cittadini russi che senza il Consiglio d'Europa hanno certamente uno strumento in meno per tutelare i propri diritti. Io credo che questo consesso che potrà essere riunito con i 46 capi di Stato ma in generale con i 46 diversi Paesi che rappresentano il Consiglio d'Europa possa dare un ulteriore slancio all'attività del Consiglio d'Europa che talvolta ha necessità di avere qualche caposaldo in più, qualche argomento in più su cui dibattere perché certamente sono importanti le discussioni che facciamo all'interno della nostra Assemblea parlamentare. Talvolta però serve secondo me uno slancio in più, un obiettivo in più che può essere portato con la proposta del Presidente Cox. Sul tema della Russia non mi dilungo ulteriormente. Ritengo che il Consiglio d'Europa abbia fatto il giusto e tra l'altro si è espresso praticamente all'unanimità per quanto riguarda il tema dell'esclusione della Russia. Sul tema delle sanzioni è un ampio tema che non sto qui a toccare. Certamente il nostro obiettivo, almeno questo quello che penso anche personalmente, è quello di continuare un dialogo con la popolazione russa, col popolo russo. Le sanzioni in questo momento erano necessarie ma non sono certamente la soluzione ad un conflitto anche perché, come sappiamo bene, portano evidentemente delle conseguenze anche alla nostra popolazione, alla popolazione europea, alle nostre imprese e alla nostra economia. Grazie. Grazie. Grande, Presidente Grande. Grazie Presidente. Presidente Cox, ci rivediamo anche in questa sede, la sede della Commissione Esteri. Sono stati giorni di lavoro, di lavoro nella nostra Commissione Cultura, che ha approfondito temi molto importanti, molto rilevanti, e che esattamente come il tema della pace, dello Stato di diritto, fino a questo scoppio della guerra in Ucraina sembravano in qualche modo dei valori, dei dati acquisiti e di cui, insomma, appunto se ne occupava il Consiglio d'Europa e pochi al di fuori della, diciamo, di quella istituzione. Ecco, l'attacco da parte della Russia ci ha fatto capire chiaramente che in realtà questi valori non sono affatto scontati. Una volta acquisiti possono essere persi. E noi da questo momento in avanti ci ritroveremo a parlare di questi temi anche nelle prossime sessioni, inevitabilmente, benché la Russia non sia più parte del Consiglio d'Europa. E come diceva il collega Ribolla, noi abbiamo allo stesso tempo il dovere di continuare a tutelare i tanti cittadini russi che magari hanno protestato, che sono stati arrestati, giornalisti, che sono minacciati, che sono in pericolo. E questo sarà uno dei grandi obiettivi, i grandi sforzi che il Consiglio d'Europa dovrà fare anche con la società civile. E se già era difficile, finora, da domani, da oggi, insomma, lo è molto di più. Quindi il Consiglio d'Europa, al Consiglio d'Europa aspetta un compito molto, molto delicato, ovvero quello di continuare a preservare e portare avanti quei valori, quei diritti, quegli obiettivi che noi tutti ci siamo dati in un Paese che non ne fa parte, in un contesto in cui sarà ancora più complicato riuscire a tutelarli. È una grande impresa, è un grande obiettivo per tutti noi. Il tema, per esempio, che abbiamo affrontato durante le nostre sessioni, durante i nostri incontri, del problema di bilancio, di budget, del Consiglio d'Europa, spero venga sostenuto anche dal nostro Paese, oltre alle dichiarazioni di tanti altri Paesi del Consiglio d'Europa che hanno detto che saranno assolutamente presenti nel sostituire quei fondi che prima arrivavano dalla Federazione Russa. Quindi c'è ancora tanto lavoro da fare, c'è da ripensare anche le future attività e gli obiettivi, forse, di un nuovo Consiglio d'Europa in un contesto internazionale mutato. e la nostra delegazione nel nostro Paese sarà sicuramente in prima fila per lavorare e per portare a casa degli obiettivi concreti nel rispetto dei nostri valori comuni. Altri? Sì, no, io volevo porre io una questione dal Presidente Cox, perché il Presidente Cox ha giustamente fatto riferimento alla proposta di Macron. La proposta di Macron è quella di costruire una comunità politica europea che includa da subito, insieme ai 27 Paesi membri dell'Unione, tutti i Paesi che aspirano a candidarsi. Che allo stato attuale dei fatti sono nove, forse dieci, perché ho visto che ieri Erdogan ha fatto una dichiarazione in cui ha rilanciato la adesione della Turchia. Ora, nel momento in cui l'Unione europea si dà vita a questa nuova configurazione, come dobbiamo immaginare il rapporto col Consiglio d'Europa? Che il Consiglio d'Europa è sostanzialmente, come ha ricordato il Presidente, diciamo l'Assemblea parlamentare europea e l'istituzione parlamentare, sia a piano governativo sia sul piano parlamentare, più larga, che ha 46 Paesi, mancano, manca soltanto la Russia ed è in una condizione di sospensione la Bielorussia. Per il resto tutti i Paesi ci sono. Nel momento in cui l'Unione europea va verso un formato non identico, ma molto vicino, come lo dico perché all'ultima sessione, lo dico per i colleghi, all'ultima sessione dell'Assemblea parlamentare noi abbiamo approvato una risoluzione molto importante, il cui relatore era il collega rumeno Corlatean, sui rapporti tra Unione europea e Consiglio d'Europa. Nell'auspicio appunto di intensificare sempre di più i rapporti di cooperazione e di interazione tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea. Nel momento in cui l'Unione europea dà vita a una configurazione ancora più ampia, che naturalmente è tutta da costruire, è tutta da costruire, quindi non sarà facile, ma nel momento in cui dà questa... Quindi come possiamo immaginare il rapporto tra Unione europea e Consiglio d'Europa? Questa è la mia domanda. Altri? No? Allora la parola al Presidente Cox. Presidente Cox, prego. Grazie mille per le vostre osservazioni, per i vostri commenti molto saggi. Le condivido quasi tutti. Partiamo dalla guerra in Ucraina. Sono d'accordo con l'Onorevole Boldrini. Ogni giorno, di durata di questa guerra, è una disgrazia, segna una disgrazia per noi tutti. Ed è un orrore per i cittadini dell'Ucraina. Aggiungerei anche per i soldati che hanno invaso l'Ucraina. Molti di loro non sapevano neanche dove stessero andando. Sì, l'Ucraina è un paese sotto attacco. Secondo la Carta delle Nazioni Unite ha il diritto sovrano di difendersi. Quindi se l'Ucraina chiede sostegno in termini di denaro, prodotti alimentari, armi, ha il diritto di farlo. Il resto della comunità internazionale ha il diritto di decidere su questa richiesta. Non dirò cosa è giusto e cosa sia sbagliato, ma l'Ucraina ha il pieno diritto di difendersi. Quel che preoccupa è che all'inizio c'è stato il Presidente russo che ha pensato di poter fare una guerra lampo, arrivare in Kiev in tre giorni, conquistarla, e poi continuare come se nulla fosse. Sì, ho violato il diritto internazionale, ma la vita non è facile, si continuerà in ogni caso. Ma adesso è chiaro, la Russia non vincerà mai questa guerra. Non sarà possibile, perché ha creato così tanti nemici intorno a sé, nell'intera comunità e all'interno dell'Ucraina, che se anche si occupasse quel paese, non potrebbe dire di aver vinto la guerra. Sì, occuperebbe il paese, ma sicuramente non avrebbe vinto la guerra. E gli ucraini non vogliono assolutamente accettare la vittoria militare da parte della Russia. Mentre quello che mi preoccupa è che alcuni politici in vari paesi pensano che anche l'Ucraina possa vincere militarmente la guerra. e anche questo è coraggioso. Sicuramente è coraggiosa la resistenza degli ucraini ed è sicuramente superiore a quello che l'esercito russo pensava. Ma l'idea che un piccolo paese possa vincere una guerra militarmente contro il paese più grande del mondo è pericoloso. Senza negare il diritto dell'Ucraina di difendersi, la soluzione sarebbe una fine della guerra, un cessate il fuoco, senza una vittoria. In questi giorni ci sono tante persone brave che vogliono sostenere l'Ucraina, ma ci sono anche tanti che vogliono guadagnare denaro perché la guerra è sempre una macchina che crea soldi ed è la cosa peggiore di ogni guerra perché ci sono persone che approfittano della guerra per tranne vantaggio economico. Quindi la risposta a questa guerra che non sarebbe mai dovuta iniziare e che dovrebbe finire immediatamente non è più armi o prolungamento del conflitto militare, ma diplomazia. Alla fine si fa la pace non con gli amici ma con i nemici ed è chiaro che non si vuole gradire di fare la pace con un invasore, ma purtroppo bisogna farlo, bisogna arrivare ad una soluzione. Persone come il Presidente Macron, il Cancelliere Scholz, il Presidente Mattarella, lo hanno chiarito. Dobbiamo trovare una soluzione anche per la Federazione russa. Se la soluzione è che i cittadini russi dicano che il Presidente Putin ha creato grande sconvolgimento non solo contro gli ucraini ma anche per noi perché siamo stati espulsi dal Consiglio d'Europa, quindi noi 140 milioni di russi non siamo più protetti dalla Convenzione dei diritti umani, allora è meglio che lei si ritiri. Allora sarebbero i russi a dover decidere, così come gli ucraini devono poter decidere del loro futuro, ma dobbiamo trovare una soluzione diplomatica, non c'è alternativa. E, viste le circostanze, forse questa guerra potrebbe essere vinta, ma diciamo che tutti perderebbero. Quindi questo è il concetto a cui dobbiamo abituarci. Anche il Consiglio d'Europa può svolgere un ruolo, perché noi includiamo 46 Stati membri, 46 Stati dell'Europa e di fatto noi vogliamo prenderci cura dei cittadini dell'Ucraina così come della Bielorussia. Il problema sono i governi di questi Paesi che hanno superato delle linee rosse e se noi accettiamo che si possano superare le linee rosse perché si è grandi, allora il Consiglio d'Europa dovrebbe sparire immediatamente. Io non sono contro nessun Paese, voglio che tutti. Noi ci siamo impegnati tanto, come è stato detto, ma quando si fa parte di un'organizzazione che persegue la pace e si travalica una soglia, e allora la storia finisce. E questo è stato fatto a Mosca. Forse non si aspettavano una reazione, non si aspettavano che sarebbe accaduto quello da parte del Presidente, ma noi in tre settimane li abbiamo espulsi. Il Consiglio d'Europa è stato forse una delle organizzazioni più chiare, più rapide a reagire. La cooperazione è eccellente con la Presidenza del Consiglio d'Europa, con l'Italia, con il vostro ambasciatore a Strasburgo, con il Ministro Di Maio. C'è stata un'unica linea di movimento. Abbiamo capito che se non avessimo operato in sinergia e in unità avremmo fallito, ma lo abbiamo fatto. Il messaggio è stato ricevuto anche in Ucraina, noi abbiamo fatto visita all'Ucraina, subito, direi, per mostrare la nostra solidarietà. C'è stato tanto rispetto per la gestione della situazione da parte del Consiglio d'Europa, ma dobbiamo fare di più, come hanno detto voi. Non possiamo lasciare che sia un Paese, che sia Israele, la Turchia, o la Polonia, o qualunque altro Paese ad agire. Abbiamo bisogno di un impegno comune, combinato, tante cose contemporaneamente, tutti insieme. credo che sia stato importante che l'intera comunità internazionale abbia chiarito ai russi che quello che hanno fatto non era accettabile. Il voto alle Nazioni Unite è stato chiaro. Solo cinque amici hanno votato per, cinque amici erano amici della Russia. Pensiamo a livello delle sanzioni per la prima volta. Almeno all'inizio c'è stata tanta unità. È vero che vedo le vostre reazioni. Non è chiaro. Non sono le sanzioni che porranno fine alla guerra. Sarà la diplomazia a farlo, ma è importante anche per l'invasore sapere che c'è una posta in gioco, perché anche la Russia sta pagando un prezzo alto, gli stessi cittadini russi, e anche il Paese in generale. Dobbiamo concentrarci. Non possiamo permetterci di pensare che ci siano altre possibilità. Ce n'è una sola. Il cessato il fuoco, fine della guerra, una soluzione per la Russia, ritiro dall'Ucraina, dal suo territorio, quindi il suo territorio e la sua integrità devono essere rispettati. Ci sono stati suggerimenti inizialmente interessanti e successivi da parte del Presidente Zelensky, quando ha detto noi ci battiamo per la nostra sovranità, per la nostra integrità, ma dobbiamo parlare, dobbiamo parlare del Donbass, del Crimea. È stata una posizione coraggiosa. All'inizio non è stato popolare per questo in Ucraina, ma è stato coraggioso. Sicuramente dobbiamo seguire questa direzione. Come Alberto ha detto, dobbiamo andare oltre. E anche come ha detto Marta, forse abbiamo bisogno di un nuovo Consiglio d'Europa. E Piero ha detto, ha parlato dell'iniziativa del Presidente Macron, che sta pensando ad una nuova organizzazione. Ci sono possibilità, queste sono delle possibilità. È chiaro che l'Unione Europea non potrà risolvere tutti i problemi, perché non potranno integrare tutti e 46 gli Stati del Consiglio d'Europa. E non devono neanche provare a farlo. Il processo di adesione è lungo, è molto difficile, ma possiamo fare altro. C'è il Consiglio d'Europa. Possiamo rinnovare, come ha detto Marta, potremmo rinnovare il Consiglio d'Europa. Se si legge il Trattato di Londra del 49, si apre a tutte le possibilità, tranne quella della difesa, perché non fa parte del mandato del Consiglio d'Europa. Ma il Presidente Macron ha parlato di più possibilità a livello di trasporti, migrazione, energia, clima. Tutto questo potrebbe essere incluso nel Trattato di Londra e nel Trattato che è la base del Consiglio d'Europa. Noi non siamo contrari alle idee dell'Unione Europea. Se si vuole entrare nell'Unione Europea, si deve essere membri del Consiglio d'Europa. Almeno nel periodo iniziale ad Interim, dobbiamo iniziare a discutere e pensare intanto tra due settimane e parlarne alla prossima riunione dei Ministri degli Esteri alla quale parteciperò anche io. Una volta che ci sarà la decisione dovremo riunirci ed essere uniti, ma non tra dieci anni, tra un anno. Possiamo discutere di varie opzioni. Se il Presidente Macron vuole propondere Parigi, allora va bene, andiamo a Parigi. se si propone Reykjavik perché tra un anno l'Islanda presiderà il Consiglio d'Europa, allora andiamo lì. E allora iniziamo poi i preparativi. Il Comitato dei Ministri deciderà che noi avvieremo questa fase di preparazione. Dobbiamo coinvolgere esperti, anche politici, parlamentari, per capire come creare un nuovo Consiglio d'Europa funzionante, come farlo funzionare con un nuovo bilancio. Bisogna pensare a tutto. Bisogna essere attenti a mantenere la pace, ma senza trascurare la parte finanziaria. Ci sono buoni segnali in questo senso. Il Bundestag tedesco ha deciso dieci giorni fa di dare altri dieci milioni di euro al Consiglio d'Europa. Anche il Presidente Macron ha promesso di fare lo stesso. Anche il mio governo olandese che è rinomato non per avere proprio il portafoglio sempre a portata di mano, ma anche il nostro Ministro degli Esteri ha detto che il nostro Paese pagherà, farà la sua parte. Anche il Ministro Di Maio per l'Italia è positivo in questo senso, ma il denaro non è un aspetto importante in questo momento è importante capire cosa fare sulla base del trattato esistente per allargare e ammodernare la nostra organizzazione. Questo è importante. È una proposta che è stata avanzata anche in Italia e anche dal Presidente Macron. Se si guarda voi siete tutti esperti politici di politica estera. Pensare ad un nuovo trattato con 46 Stati membri è chiaro ci fa pensare vabbè ci mettiamo dieci anni almeno mentre adesso c'è il trattato vigente ma è possibile aggiungere dei protocolli aggiuntivi che sono più facili da redigere e allora vorrei chiedere a voi di ripensare a questa possibilità. Ho detto il processo è iniziato qui a Torino tra dieci giorni ne parleremo poi non avremo tanto tempo. Se non utilizziamo il tempo il momento giusto quando si propone e allora si perde l'occasione di pensare ad un rinnovato Consiglio d'Europa ad una nuova forma di protezione per gli Stati europei che non riescono ancora ad essere a diventare membri dell'Unione europea ma hanno il diritto di ricevere maggiore protezione perché questa guerra lo ha chiarito il livello di protezione è troppo basso al momento dobbiamo fare di più e questo sarebbe il momento giusto per farlo ed è chiaro che dobbiamo avere l'Unione europea con noi ho detto che sono da vent'anni al Consiglio d'Europa e non ci siamo sempre considerati grandi amici con l'Unione europea perché nel passato c'è stata duplicazione del lavoro abbiamo fatto tante volte le stesse cose e noi pensavamo che l'Unione europea potesse fare meglio e d'altra parte in termini di protezione dei diritti umani anche l'Unione europea voleva fare la sua parte ma questa volta noi a mio modesto avviso Presidente il Consiglio d'Europa potrebbe essere una soluzione al problema dell'Unione europea ieri il Presidente Michel in Ucraina ha detto che noi inizieremo a pensare ai negoziati tra pochi giorni per l'adesione dell'Ucraina ma come ha detto ieri il Presidente Macron ma dopo questi primi giorni ci saranno altri anni da tanti anni da attendere quindi lui ha creato un problema perché non riesce a risolvere a garantire quello che gli ucraini vogliono non voglio dare la colpa ma gli ucraini hanno bisogno di più la posta in gioco anche durante la conferenza a Torino deve essere discussa se non si riesce ad entrare nell'UE allora bisogna rafforzare il potere bisogna ampliare il mandato e l'ambito d'azione del Consiglio d'Europa che è lì per essere utilizzato l'Unione europea deve garantire che il denaro necessario per la ricostruzione dell'Ucraina sia disponibile pensando anche ad altri paesi che sono sotto pressione Georgia Moldova Marta ha detto dobbiamo essere consapevoli perché niente può essere dato per scontato e la democrazia è un prodotto relativamente recente se si guarda la storia la democrazia non può essere data per scontata e questo ci deve rendere umili e ci deve rendere vigili ma niente è impossibile d'altra parte abbiamo scoperto varie crisi e ci siamo trovati di fronte a cose che pensavamo fossero inimmaginabili nel giro di un anno abbiamo sviluppato un vaccino che funziona stiamo pensando anche ad andare su Marte e siamo riusciti a prevalere in alcune battaglie quindi se siamo riusciti in questo ambito con l'impegno dell'intera comunità internazionale allora possiamo anche porre fine a questa situazione migliorare questa situazione e sono d'accordo con l'onorevole Boldrini dobbiamo coinvolgere l'intero mondo perché questo è un problema mondiale nessuno può dire che è solo un problema dell'Ucraina lei ha detto giustamente è proprio dietro l'angolo quindi così e tocca quindi paesi anche come l'Iran l'India la Cina non è il momento di sedersi e aspettare senza far nulla proprio perché niente si dà per scontato e può essere dato per scontato dobbiamo pensare che tutto sia possibile noi politici dobbiamo fare il nostro lavoro non dobbiamo ampliare i nostri le nostre divergenze l'Italia dimostra che si può avere un governo che riunisce insieme partiti che dieci anni fa per esempio non avrebbero mai pensato di unirsi eppure è accaduto e quindi se è accaduto a livello italiano può accadere a livello europeo quindi internazionale quindi avremo bisogno del vostro supporto italiano anche tra dieci giorni a Torino contiamo sulla vostra sulla vostra opera di convincimento nei confronti di tutti gli altri vostri politici sappiamo che ce la faremo e questa non è un'opzione se non ce la faremo a vincere la cattiveria l'orrore prevarranno e noi non possiamo dare questo ai nostri figli dicendo che non siamo riusciti a fermare niente grazie mille per questa opportunità di scambio grazie grazie molto Presidente Cox mi pare che lei ha delineato un cantiere di lavoro molto intenso che avremo già partito da Torino come sapete a Torino il 19 e il 20 maggio c'è la conferenza ministeriale di chiusura della Presidenza italiana del Consiglio d'Europa e naturalmente i temi che ha evocato qui il Presidente Cox saranno al centro di quella ministeriale lì si aprirà questa discussione sui temi così strategici per il futuro dell'Europa e per il futuro delle sue istituzioni l'Unione questa nuova proposta di Macron il Consiglio d'Europa è come ridisegnare diciamo l'architettura con un unico obiettivo che da un lato con due obiettivi da un lato un'Unione europea molto più unita e più coesa e un'Unione europea unita e coesa sulla base dello Stato di diritto e della democrazia queste sono le due questioni bene grazie molto al Presidente Cox grazie anche per la sua visita in Italia per gli impegni che ha assolto qui e naturalmente noi continueremo a lavorare col Consiglio d'Europa tra l'altro in questa commissione sono molti membri di questa commissione e sono membri del Consiglio d'Europa a partire da me e quindi naturalmente è più facile stabilire anche questa collaborazione grazie grazie grazie